ciao a tutti vediamo lo shop di oggi mi raccomando shop di oggi codice creatore oggi per supportare il canale oltre al like mi raccomando allora abbiamo il post battaglia le solite cose a pagamento scendiamo marshmallow carino mello verso chi veniva da fare questi piccoli sono veramente carini poi è tornato the weekend perché probabilmente tra un po c'è i concerti lady gaga queste emote che c'erano anche l'altro giorno questa è una cosa nuova che non ho mai visto vediamo un attimo insammiamo gli oggetti per solito mille 300 bucks abbiamo bananita tutto fumettoso neanche nero lo zainos piccones questa versione legos e sto cosino strano versione leggo oh le api sono strani eh e questo che dovrebbe essere il delta plano veramente originale questi questi personaggi poi cosa abbiamo novità novità attenzione questo colore non è un granché ma rosso fiammante ci sta dentro ovviamente attenente con questa stagione dracon dracalist e piccone taglientes poi abbiamo qua un po di roba del passato operazione segreta gente del caos e questo qua esploratore del caos costo di più perché c'è la trasformazione questo non ce l'ho ma è però carino quasi da comprare per 800 pp poi questo bellissimo suo personalizzato un po di macchine mili e lish si va in tutta la zona attenzione mi raccomando ricordatevi se vi piace un guardia della galassia sono scontati quasi il 50 per cento da 28 a 19 più o meno e se lo usate il codice creatore oggi così superterete anche il canale se li comprate poi salva il mondo cose che abbiamo già visto va bene ciao a tutti bella lì